Come per ogni grande evento, il termometro dell'interesse collettivo lo dà sempre Facebook, la comunità virtuale più grande al mondo, all'indomani della notte dell'opera si scatena all'ora in commenti, tag e post, testimonianze live dell'atmosfera magica che Macerata ha vissuto per una notte. Una notte con cui maceratesi, turisti, commercianti, associazioni, volontari si sono messi all'opera, lavorando per rappresentare il più spettacolare degli atti delle opere di Verdi, il terzo del Trovatore, l'assedio alla Rocca di Castellior dove Marrico e Leonora stanno per sposarsi. Un assedio che parte dai cancelli intorno alle 20, dopo che le campane della Torre Civica richiamano gli eserciti del Conte di Luna, di Corso Cavour e Corso Cairoli, già popolosi ogni oltre aspettativa a quell'ora. In strada saltimbanchi, giocolieri, artisti, pittori, locandieri, osti, ballerini e figuranti. Ogni associazione partecipante porta in scena il dramma, giocoso per questa notte del Trovatore, ognuno mettendo a disposizione il proprio lavoro, interpreta una parte di questa grande opera fatta di molti personaggi. L'assedio prosegue con l'imponente opera parade che da piazza Garibaldi arriva allo Sferisterio, dove le truppe sono chiamate a raccolta con un rituale tutto moderno, quello del flash mob diretto all'arena dal regista Marco Di Stefano. Esplode la città, il tripudio di colori, i commercianti indaffarati dietro i loro scaffali o sorridenti dai loro banconi, partecipano con l'operosità tipica dei maceratesi. L'esercito di attori, cantanti, artisti di strada si schiera con l'avemente passione di chi ha già fatto proprio una parte della magica storia del Trovatore. Un rinascimento, se così lo si può chiamare, che parte dall'uomo, da ciò che esso è in grado di sentire, provare e poi fare, non per se stesso, ma al servizio di un'idea, di un amore, quello per macerata e la cultura. Un amore che si consacra nel lamento di Manrico a mezzanotte, lo zoppo è magistralmente interpretato in piazza della libertà nel cuore della rocca dalla mente, il drammaturgo che muove i fili di questa grande opera, Francesco Micheli. Il direttore artistico giunto l'anno scorso in città è mattatore, cattura le migliaia di presenti che affollano la piazza per il gran raduno prima dell'attacco finale, in canta appassiona la folla raccontando la storia del Trovatore dall'inizio e incalzando i suoi, una macerata ormai invaghita di questo artigiano delle passioni affinché ricordino ogni nome delle donne e degli uomini protagonisti del più grande dei successi verdiani. La carica si canta tutti insieme, diretti proprio dal Manrico Micheli e intona le note imponenti e leggere del va pensiero. Così inizia la notte dell'opera, una notte che ha lasciato in ognuno dei presenti un pizzico di magia e di gratitudine per chi ha aperto il sipario su questa grande storia di uomini, donne e amore.